Ciao a tutti, ecco a voi un nuovo video, sempre la solita location, quindi video recensione, ma questa volta vi porto con me in un posto diverso, vero da un parrucchiere. È sempre difficile trovare un parrucchiere che sia bravissimo con il taglio o con i colori, anche particolari, e invece vi porterò, è sempre nella mia zona, si trova a Nova Milanese, quindi può essere comodo a chi conosce la zona, sono bravissimi nei tagli e bravissimi nel colore. Mi avete già visto andare da loro, sia per il taglio che per il colore, e mi avete fatto un sacco di complimenti, ma soprattutto, come vedete, io ho tantissimi capelli, e molto molto spessi, quindi se non si fa un taglio azzeccato divento il re leone. Invece, guardate, comunque, cioè nel senso, non sono gonfissima, non ho fatto piega, non ho fatto assolutamente nulla, quindi sono super super brava nei tagli, vorrei tagliarli corti fino a qua, ma non lo so, perché ogni volta che entro e gli chiedo un taglio corto, mi dicono, no, sono così belli i capelli, ti prego lasciali così. Scusate per il rumore, ma fa caldissimo se chiudo. E soprattutto sono bravissime nei colori, li ho visti fare un viola, li ho visti fare un bianco, e le tipe tornare proprio anche al ritocco del colore stesso, veramente con questi colori fatti da Dio. E quindi niente, per chi vuole qualcosa di strano, di particolare, o comunque non sa dove andare, eccetera eccetera, ve lo consiglio, vi porto con me. Intanto che andiamo in cammino vi racconto una cosa, nel senso che questo parrucchiere non fa solo quello che vi ho detto prima, perché è super completo, oltre che fa anche uomo, fa anche per esempio la stiratura, e l'ha fatta adesso la mamma di Pietro, e quando gli ho chiesto come si era trovata, la risposta è stata, cavolo dovevo farlo prima. Quindi fanno veramente tantissime cose, io l'altra volta avevo provato anche un trattamento con il panno caldo poi in testa per rendere più, per nutrire i capelli, quindi insomma fanno veramente 20 milioni di cose, secondo me qualità e prezzo ottima, e vi farò vedere poi dopo quello che ho speso. Il negozio è questo, che vedete, che si chiama Elena Tornello, e niente, adesso entriamo. Amore, vai tranquilla, puoi venire a 13 e mezza, eh. Quando avevo la due annubilato, che subito era tenuto Jacopo, ah. Eccomi tornata, questo è il taglio e la piega, non so se si nota, ma i capelli prima arrivavano qua lisci, quindi ne ho tagliato un bel po', e vi faccio vedere lo scontrino, questo è lo scontrino, ho pagato 45 euro perché la piega lungo 20, il taglio donna 15, poi ho fatto il trattamento che ho scelto di farlo 10 euro, e questo appunto è lo scontrino. Come vi dicevo, vi consiglio questo posto perché comunque sono bravissima a tagliare, bravissima a fare i colori, c'era di fianco a me una ragazza che aveva il bianco, ma aveva un bel bianco, non quei bianchi brutti che si vedono in giro, quindi super top, taglio e colore, penso che farò la stiratura quando torniamo, adesso vediamo un po' l'organizzazione perché ci vogliono comunque sui miei capelli, che ne ho tanti, due ore e mezza, e non è semplice trovare il tempo. Però appunto, come vi dicevo, è qua a Nova Milanese, mi è piaciuto, quindi super promosso, e fatemi sapere in caso lo conoscete o andrete come al solito. Un grosso bacio, ciao!